Vogliamo magari ancora ricordare una cosa, che oggi è uscito un dischetto 45 giri che contiene 4 brani di 4 gruppi, tra cui 2 gruppi di Pesano, ovvero gli Eversor e Pull Chain. Quindi questo dischetto, oltre a questi gruppi qua, mantiene anche un pezzo dei Madaus, è un pezzo dei Kina, e lo potete trovare chiaramente giù in fondo dove c'è la solita pancarella con tutto il solito... La solita roba che noi vendiamo, dischi, magliette, cassette, fanzine, autoproduzioni varie, se poi volete fare un giro avete 4 mila da spendere. Questo è l'ultimo pezzo. La solita roba che noi vendiamo, dischi, magliette, immagliette, 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 immagliette. La solita roba che noi vendono, dischi, magliette ma reso di menti, non puoi soldare ma sbagliare ma straverne! La solita roba che noi vendiamo, dischi, non puoi servire, per ribalt dartano, attesare�, vitri nel можемero se te volete vedere quanto evitare! Oltre a questi duealità lo decidono,�уть merevo nessuna ruotaanken,points, comunicazione, 안녕하세요, creative e non puoi tuttavia. Oltre a quem juttunfo, dimagliette e dimagliette per il gruppi per ilucinistro. Non è una realtà che ti fa sbagliare, e se sognando lo stai, sopporto un'altra distruzione. Questa è la tratta dalle soglie, c'è un'altra battaglia. I sogni che stai riferati, per iniziare i blocchi, a un'altra gioia. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato, non è passato, non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, 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 non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato, non è passato, non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato, non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato, non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato. Mi ragione qualcuno di fuori, non è passato, non è passato. Grazie a tutti.